con questa bandiera nera si apre il servizio che ho la gioia di proporvi questa mattina 21 giugno 1995 e appunto un servizio che apre lo sguardo su questa zona desolata chiamata Tambacan vedete che ci sono i rifiuti e questi rifiuti sono stati bruciati proprio pochi giorni fa perché si chiama Tambacan appunto perché è il luogo dei rifiuti con me avrò la gioia di presentarvi anche due carissimi amici venuti dall'Italia padre Aldo Ormai parroco di Sapri e padre Franco Guida il nostro consigliere provinciale che si trova attualmente a Crotone è un servizio per dimostrarvi anche la precarietà di questo nostro essere nelle Filippine abbiamo praticamente il 40 per cento di abitanti della grande metropole di Manila che abita in queste situazioni questa è una delle loro capanne a Tambacan ci sono cento famiglie le loro capanne sono state fabbricate proprio sulle immondizie tant'è è vero che basta scavare un pochino e le immondizie degli anni passati vengono subito come dei giacimenti di petrolio vengono a galla quindi cento famiglie che ci sono abbarbicate qui e che ogni giorno vanno avanti con molta difficoltà ecco una delle capanne vengono costruite con il cartone con il compensato che si trova nelle immondizie di giorno in giorno i capanni di capi famiglia vanno a prendere in mezzo qualche cosa di buono ho continuato a camminare lungo il sentiero che scende in una piccola valle dove appunto le immondizie vengono ammassate dopo averle bruciate pian piano la terra va messa sopra per togliere via eventuali pericoli di epidemie e qui abbiamo Don Aldo Padre Aldo ormai Paraco di Sapri grazie che sei venuto a trovarci e grazie quindi della tua presenza che è anche una presenza rappresentativa non sei venuto solamente a nome personale a titolo personale ma appunto come un rappresentante di una comunità che noi ringraziamo proprio vivamente la comunità della parrocchia dell'Immacolata di Sapri e anche della parrocchia di San Giovanni Sapri come comunità missionaria e ad alta energia diciamo bene Padre Aldo delle tue impressioni siamo arrivati quasi al termine della tua presenza qui qualche cosa riguardo in generale ma in particolare anche riguardo Tambaca sì dunque anzitutto l'esperienza di questi giorni insomma che ho potuto fare era una cosa che io sognavo da tempo perché avevo chiesto in varie circostanze di poter venire nelle Filippine per poter vedere la situazione che non è certamente una situazione molto molto bella da un punto di vista della povertà infatti la prima impressione posso dire che ho notato che si vede subito venire a gala è proprio il fatto di questa grande sproporzione tra persone, famiglie, benestanti che vivono un po' quasi chiuse nei loro quartieri di ricchezza diciamo e poi la situazione molto difficile e precaria di queste centinaia, migliaia di famiglie che vivono in queste zone di estrema, di grandissima povertà ecco come hai detto io la presenza mia penso che sia anche un po' rappresentativa nel senso che essendo parco di una parrocchia stimatina della parrocchia di Sapri ecco e lì abbiamo molti benefattori abbiamo molte persone che davvero si interessano dei nostri problemi e quindi essendo io qui proprio posso constatare posso vedere anche che il bene, la loro carità le cose che fanno le fanno proprio per queste persone, per questi poveri per venire in aiuto cioè a situazioni di grandissima difficoltà di famiglie con moltissimi bambini che non hanno nulla insomma hanno una capanna che oggi c'è, domani magari non c'è più e che sono quindi così in una situazione di precarietà molto grave quindi posso veramente confermare che il lavoro dei missionari è quello di aiutare insomma queste persone, queste famiglie, in particolare Padre Luigi che quest'anno ha avuto anche un incarico particolare che riguarda appunto i bambini, riguarda queste famiglie nel centro sociale mi pare che sei tu Luigi incaricato adesso di continuare l'attività di Padre Charles e magari di promuoverla in modo sempre più ampio per venire incontro a queste persone, a queste famiglie a questi bambini che magari hanno così le gambe, le braccia magari piene di punture, di insetti e quindi hanno bisogno davvero di qualcuno che li assiste e che li aiuta Dito, 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 dito che hai udito a pochi che hai udito venite fuori che siete belli ogni famiglia in genere ha 4, 5, 6 bambini e questi bambini qui, alcuni qui più piccolini non vanno a scuola allora abbiamo aperto un asilo per loro ci sono tre turni, li vedremo più tardi gli altri invece vanno a scuola normale, elementari e delle medie continuiamo il nostro viaggio mi siamo in mente la via un po' dolorosa ma in mezzo a questo villaggio che propone delle riflessioni per conto proprio proprio stamattina leggendo i giornali di Manila le ultime analisi dicono che a Manila su 12 milioni di abitanti ce ne siano circa metà il 40%, un po' meno di metà che sono delle squatter aerea cioè vuol dire che ci sono 700 mila famiglie diceva proprio così 700 mila famiglie della zona di Manila che devono essere mandati fuori un verbo più gentile viene detto ricolocate ma praticamente è proprio una immarginazione vengono allontanate cosa ti sembra Aldo? queste visioni che abbiamo un po' l'obbligo anche di vedere per farci più partecipi delle sofferenze del mondo che cosa provocano in te? senz'altro le conoscevi ma adesso vistole dal vivo cosa senti? sì, direi che davvero vedere una cosa dal vivo è diverso che non aver visto dei filmati perché qui si incontra quella che è veramente la realtà di queste famiglie, di questi bambini insomma la realtà di tutti i giorni ecco, mentre quando assisti qualche filmato televisivo anche la tv italiana fa vedere immagini di paesi poveri di bambini abbandonati però ecco, constatare personalmente venire qui in queste zone con il caldo a parte il caldo il sudore continuo e quindi si capisce anche un po' sì, che non c'è tutta l'attività che c'è in Italia perché proprio non ci sono magari neanche le forze forse per noi missionari comunque venire a contatto questa realtà certamente da una parte ti provoca una grande amarezza interiore però anche nello stesso tempo ti provoca anche un impegno maggiore di vivere il Vangelo e capisci veramente il Vangelo che cosa Gesù ha voluto esprimere con l'episodio anche che ricorda ho avuto fame mi avete dato da mangiare ho avuto sete mi avete dato da bere ero nudo ero forestiero ero in cacere siete venuti a visitare ed eccoci arrivati alla piazza centrale di Tambacan con il monumento che non è il monumento di un grande condottiero a cavallo il salvatore della patria ma è il rifiuto il rifiuto come simbolo di una società che viene rifiutata qui il padrone delle terre fanno a gara appena troveranno qualcuno che da Taiwan o dal Giappone proporanno loro oro delle ricche ricompense per comprare tutta la terra a fare dell'industria fabbriche di Taiwan o della Giappone dove lavoreranno a bassissimo prezzo gli operai filippini ebbene tutte queste case verranno ricolocate dicevo che il verbo ricolocare non è altro che una buffa immagine un buffo vestito per nascondere la verità vengono mandate via lontano da Manila lontano dagli occhi dei turisti lontano dal cuore dei ricchi perché i ricchi hanno altre intenzioni tutto quello che noi possiamo vedere qua attorno ogni cosa è il ricavato della ricerca in mezzo alle immondizie come fanno a vivere questa gente in genere i capi famiglia rovistano in mezzo alle immondizie cercando da mettere in disparti il ferro da una parte le bottiglie di vetro di plastica dall'altra poi cerca di vendere se riescono a ricavarne qualche cosa è anche lo spirito di fantasia filippino che anche nell'estrema povertà riesce a ricavare qualche cosa di grazioso qui abbiamo una serie di pneumatici stati tagliati stati verniciati e diventano così il recinto di un giardino questa casa qui per esempio è una casa che possiamo dire una villa in confronto alle altre ai filippini piace molto i fiori le piante qui abbiamo questo gusto che non viene portato via neanche se c'è la povertà cercando un po' di ombra le famiglie si mettono tutte quante unite è l'unica ombra disponibile questa la fila e la processione che vedete qui i bidoni che arriva fino qua e appunto sono i bidoni una specie di la processione del venerdì santo e cercano tutti quanti un po' di acqua laggiù in fondo la pompa il problema dell'acqua qui è molto sentito i pozi sono pochi e qui pochi non danno acqua potabile quindi anche l'acqua vedete è un problema molto serio molto serio e questa è la cappellina del paese di Tambacan cappellina che alla domenica una volta al mese diventa anche luogo del raduno dell'assemblea cristiana della comunità per la celebrazione eucaristica e che ogni giorno invece diventa il luogo di insegnamento per i bambini dell'asilo i bambini dell'asilo vengono in tre turni sono circa una settantina ottanta e qui vengono perché c'è una maestra nene che viene a loro a fare scuola ogni giorno c'è la maestra che adesso fa l'appello sono i bambini più piccoli osservate che alle spalle dell'insegnante ci sono le statue di Gesù di Gesù bambino di Gesù che porta la croce di tanti Gesù bambini usano così nelle filipine mettono tutti Gesù in file e danno un bacetto a ciascuno sentiamo un pochettino quando ci bambini fanno un po' di canti e loro hanno meno caldo di loro di canti la nuova di canti di canti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.